Io ogni anno, quando incontro i miei dipendenti comunali, che sono 22 su un paese di 6.000 abitanti, la cosa che dico sempre è ritenetevi fortunati, perché un posto di lavoro come il vostro è difficile da trovare, soprattutto in un periodo in cui ne vediamo di tutti i colori. Questo perché non perché ci sia poco da fare, ma perché hanno dei turni sicuramente che agevolano un po' la vita di una persona e consentono una vita dignitosa. Quando si parla di assenteismo, per ritornare al discorso di prima, si verifica soprattutto, e questo è quello che ho notato e correggetemi se sbaglio, nei paesi dove c'è un esubero di questi numeri. Si capita soprattutto dove ci sono paesi che hanno ad esempio 6.000 abitanti come me, ma si trovano con 200-300 dipendenti. E' lì il problema grosso. Sono perfettamente d'accordo con lei, ricordo il caso Sanremo, questi non andavano a lavorare da anni, vuol dire che non servivano a un pifero, perché sono degli accordi che non vanno a lavorare. L'assurdità però è un po' questa in Italia. L'assurdità è un po' questa, ovvero perché non prendono un esempio, non per forza un comune che deve essere mio, ma un comune che ha un tot di abitanti e si dice che per 1.000 abitanti si possono avere 5 dipendenti. E questo lo replichiamo in tutta Italia. Dove ce ne sono in esubero si spostano, oppure si mandano in pensionamento anticipato, cose simili, e dove ce ne sono pochi si dà la possibilità di assumere. Perché il problema grosso negli enti locali è questo. Abbiamo dei comuni che non possono assumere e abbiamo dei comuni che sono già in esubero e continueranno ad essere in esubero perché la legge glielo consente. Cioè dove si è sprecato si può continuare a sprecare, dove si è risparmiato non si può spendere di più. Quindi per assurdo è stupido chi ha risparmiato finora ed è stato bravo chi finora ha sprecato.